Signori, quest'oggi raccogliamo verdurine e ortaggi Rosenberg di nuovo con queste verdurine però effettivamente lo si può proporre a qualsivoglia tipologia di umano è un fillerino quindi lo vediamo anche rapidamente in Reikolt quindi abbiamo queste verdurine da raccogliere i pomodori, la lattuga, i funghi, i cavolfiori, le carote queste verdurine sono in ordine di rarità per così dire quindi i pomodori sono quelli più comuni e le carote sono quelle più rare abbiamo chiaramente i soliti spaziazione, il solito worker placement che faremo in questo modo come vedete non ho messo gli stickers perché praticamente hanno raddoppiato un colore hanno fatto un casino di stampa quindi ne farò a meno di mettere gli stickers e abbiamo tutto un tracciato qui intorno che è il tracciato del turismo in cui il nostro manager avanzerà andando a scartare le risorse indicate vincerà la partita chi sarà più in avanti alla fine del settimo round ci sono sette round in totale in caso di parità si andrà a vedere chi ha il pulzillo avanti rispetto agli altri queste qui sono le greenhouse che i giocatori andranno a recuperare nel corso della partita ogni greenhouse indica in basso i tipi di verdure che noi possiamo piantare per esempio questa da 6 spazi possiamo metterci solo i pomodori e la lattuga quelle più avanzate per esempio questa nel box dorato indica la risorsa del valore più alto che noi possiamo piantare in questo caso 3 spazi ma possiamo andarci a mettere le carote quando noi piantiamo in una greenhouse prendiamo una verdura di un tipo dalla nostra riserva personale lo piazziamo nel primo spazio e andiamo a riempire tutti gli altri spazi presi direttamente dalla riserva quindi dal carretto che c'è qui quando noi invece andiamo a raccogliere per esempio dobbiamo raccogliere da due greenhouse diverse dobbiamo raccogliere una volta per greenhouse quindi non posso raccogliere con la stessa azione più volte in un'unica greenhouse poi abbiamo queste carte che sono chiamate service card non ho idea di come siano tradotte in italiano ci sono dei set, questo qua per esempio è il set A ma vanno dalla A alla E ce ne sono 6, se ne rimuove una ce ne sono 5 in totale queste carte vanno prese con una specificazione in una partita per 3 o 4 giocatori quando un giocatore prende la carta la può condividere con il giocatore direttamente a destra o a sinistra in due giocatori questa roba non c'è prima fase di ogni round è il walk time quindi i giocatori, il classico piazzamento lavoratori partendo dal primo giocatore poi in senso orario andiamo a piazzare una pedina per volta nei vari spazi azione ora queste sono delle colonne ogni colonna ha un nome specifico l'importante è quando noi facciamo un'azione in una colonna quindi la prima o la quarta che ha questa specie di bandiera non possiamo fare l'azione con la bandiera della stessa colonna quindi banalmente il giallo non può andare qui farà questa o un'altra azione queste sono azioni di vario tipo andare a prendere dei semi questi sarebbero dei semi dai vari carretti oppure andare a piantare quindi qua almeno piantare due volte andare a prendersi una greenhouse a scelta quando c'è questa praticamente ci sono delle greenhouse randomiche con questo punto interrogativo su cui al di sopra mettiamo questa carta prendiamo una greenhouse randomica ci sono le spaziazioni qua che ci fanno prendere per l'appunto questi service card andando a scartare delle greenhouse quando noi scartiamo una greenhouse va nello spazio corrispondente se c'erano delle verdure sopra queste ovviamente sono perse notare che alcune spaziazioni ti danno l'alternativa altre spaziazioni ti fanno fare questa e questa quando ci sono due cose noi dobbiamo se possiamo farle entrambe se non possiamo ne facciamo una delle due e così via seconda fase del turno è la raccolta quindi tutti i giocatori raccolgono una volta da ogni greenhouse che hanno quindi raccolgono le verdurine le mettiamo nella nostra area lì poi c'è la fase turismo che andiamo ad eseguire seguendo l'ordine del nostro manager chi ha il manager più avanti oppure nello stesso spazio chi è davanti agli altri farà l'azione per primo e poi si segue l'ordine dei manager banalmente qui dobbiamo scartare la risorsa indicata per avanzare quindi per esempio qua scarto un pomodoro poi scarto una lattuga poi scarto un fungo posso farlo più volte finché ho verdure da scartare se in uno spazio non ho quel tipo e quel numero di verdure da scartare posso invece una sola volta per turno prendere quelle risorse dalla riserva per esempio vado a prendere un cavolfiore perché non lo ho e se posso e ho delle risorse continuo ad andare avanti scartando poi a fine turno andiamo a riprendere tutti i lavoratori il primo giocatore passa in senso orario e andiamo con il turno numero 2 e così via fino al settimo dunque facciamo un esempio per due giocatori iniziamo dalla fase di lavoro quindi giocatore ah ok giocatore giallo andrà subito deciso in questo spazio per prendersi due pomodori nero andrà in questo spazio per prendersi un pomodoro e una greenhouse randomica che è quella forte il giallo andrà in questo spazio per prendersi una greenhouse questa da sei spazi nero andiamo qui quindi prendiamo un pomodoro e poi vado a piantare una volta vado a piantare e piantiamo dei pomodori qui e aggiungo altri due pomodori dalla riserva non è rimasto molto per piantare io direi che vado in questo spazio devo scartare una qualsiasi risorsa per piantare quindi pianto l'altro pomodoro fase di raccolta siamo più o meno lì quindi raccogliamo una verdura a testa fase turismo iniziamo dal giallo allora giallo hai un pomodoro da scartare e lo facciamo e non hai lattuga quindi avanzi e ti prendi la lattuga mi sa che farà la stessa identica cosa il nero perché il pomodoro ce l'ha per avanzare non abbiamo la lattuga che prendo dalla riserva e avanzo e non abbiamo funghi quindi andiamo a riprenderci i nostri lavoratori giallo allora di sicuro mi prendo un pomodoro e vado a prendermi una greenhouse a caso ah questa qui ah no vado qui guarda qua raccolgo una volta mi prendo un pomodoro e scelgo un cavolfiore o una lattuga io direi che mi prendo la lattuga e no il cavolfiore col giallo andiamo qui mi prendo un pomodoro e vado a piantare una volta e mi vado a fare un po' di lattuga a nero andiamo a prenderci un paio di funghetti qui con il giallo a questo punto vado a raccogliere fino a due volte raccolgo un pomodoro e una lattuga col nero vado a prendermi una greenhouse ok fase di raccolto quindi mi prendo qua una lattuga e qua un pomodoro e lui ha solo pomodori qui fase turismo inizia il nero allora il nero ha un fungo da scartare lo scartiamo avanziamo la lattuga ce l'ha scartiamo e avanziamo il cavolfiore non era una lattuga ma un cavolfiore che ce l'abbiamo e questa è una carota che non abbiamo quindi avanzo e la prendo dalla riserva due pomodori li ho quindi scarto due pomodori poi qua abbiamo della lattuga ne ho solo una il bonus l'ho già preso quindi mi fermo li il giallo qua allora fungo non lo abbiamo quindi avanzo lo prendo dalla riserva e non abbiamo il cavolfiori quindi mi fermo lì ok iniziamo dal giallo giallo prenderà questa azione che mi fa prendere una service card e mi prenderò questa qui ogni volta che vado a piantare almeno una volta posso anche raccogliere una volta questa non è male per niente con il nero vado qui e mi recupero una carota con il giallo andiamo qua mi prendo una un pomodoro e una greenhouse a caso bella questa con le carote con il nero vado a piantare qui quindi mi prendo un pomodoro e vado a piantare le carotine quindi una carotina qui boom con il giallo vado in questo spazio per piantare fino a due volte e io direi di piantare qui mi pianto della lattuga e qua pianto carote con il nero andiamo qui mi prendo un fungo tra l'altro il giallo può utilizzare la sua service card quindi ha piantato una volta può anche raccogliere una volta né passiamo quindi alla fase di raccolta qua abbiamo una lattuga e una carota qua prendiamo una carota una lattuga e un pomodoro fase turismo iniziamo da nero nero deve scartare due lattughe le abbiamo ok e avanziamo di uno poi servono due funghi li abbiamo avanziamo di uno e servono due cavolfiori non li abbiamo li andiamo a prendere dalla riserva e avanziamo poi servono due carote ne ho solo una e purtroppo mi fermo lì allora giallo mi serve un cavolfiore cavolfiori non ne abbiamo quindi lo prendo dalla riserva avanzo servono due carote le ho e avanzo servono due pomodori li ho e avanzo servono due lattughe ne ho solo uno quindi anche lì rimango dove sono e basta così come notate è un gioco veramente molto molto semplice che però unisce una modalità storia dove praticamente abbiamo dei capitoli e questi capitoli ci danno un numero di round ci danno un gol quindi un obiettivo specifico ci sono cinque capitoli in questa modalità andiamo ad aggiungere delle carte evento viene girata una carta a turno e poi abbiamo anche nuovi nuove service card da aggiungere allo stack secondo della lettera insomma è una modalità per aggiungere almeno un pochino di longevità almeno cinque partite si fanno con cinque scenari e senza contare che c'è anche la modalità in solitario quindi per me va bene che mi piacciono questi solitari e cercherò di espandermi in questo modo comunque questo era Raycolt e se siete interessati ci fate un girino saluti iiii